Io posso del successo spirituale. Stiamo guardando questo tema così importante perché vediamo che in Cristo possiamo fare tante tante cose, però tante volte non ci rendiamo conto di quante cose possiamo fare perché magari non conosciamo bene quello che la parola di Dio ci dice. Oggi naturalmente è la seconda puntata, l'altra volta abbiamo visto già alcuni io posso spirituale che li leggiamo velocemente. Abbiamo visto che io posso non sentirmi mai solo o sola. Ebrei 13.5. Vi ho detto che in qualsiasi situazione noi possiamo sentire la presenza di Gesù. Quindi posso sentirmi sempre sempre in compagnia con Lui. Quindi io posso non sentirmi mai solo o sola. Quando magari ci sentiamo soli non è tanto una questione di quante persone ci sono intorno, perché possiamo essere in mezzo a una folla eppure sentirci solo. Quindi riguarda tutto quello che riguarda proprio la nostra relazione con Dio. Poi abbiamo visto io posso non preoccuparmi perché Dio ha cura di me. Prima Pietro 5.7. Quindi nella nostra vita ci sono tante preoccupazioni, però a volte queste preoccupazioni ci tolgono tempo ed energia. Per fare cosa? Per fare niente. Perché la preoccupazione è come una sedia d'ondolo. Ti muovi tanto e sei sempre fermo lì. Io posso avere tutto e pienamente in Gesù Cristo. Colossesi 2.10. Abbiamo visto che noi in Cristo, quando abbiamo accettato Lui, abbiamo ricevuto tutto e pienamente. Non abbiamo quindi bisogno di nuove esperienze spirituali o di qualcosa in più, perché Dio ci ha dato tutto e pienamente nel momento della nostra conversione. Io posso sapere di avere un gran significato. Seconda Corinzi 5.21. Io posso mostrare fermezza ed agire non facendomi ingannare dal male. Daniele 11.3. In un mondo caotico dove tante volte non si riesce a capire le cose, dove tutti sono agitati, tutti vanno in direzioni opposte, noi conoscendo Dio possiamo mostrare fermezza e non essere ingannati. Io posso non aver paura, ma posso avere forza, amore e autocontrollo nel testimoniare di Gesù. Seconda Timoteo 1.7.8. Io posso avere amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mansuetudine, autocontrollo, Galati 5.22. Queste cose le posso avere quando? Non quando tutto va bene, perché è facile, quando tutto va bene avere gioia, ma anche in mezzo alle difficoltà. E naturalmente abbiamo visto che tanti temi li toccheremo più avanti. Io posso ricevere saggezza da Dio, Giacomo 1.57. Quindi è bello che noi nelle prove, nelle difficoltà della nostra vita, possiamo chiedere a Dio la saggezza e lui è pronto a donarcela. Abbiamo detto che tante volte non serve la saggezza di Dio perché già sappiamo le risposte, ma tante volte, come si dice, vogliamo fare un po' le orecchie da mercanti. Però quando siamo sinceri nei suoi confronti possiamo chiedere saggezza e riceverla. Io posso in ogni situazione ricordarmi della bontà di Dio, Lamentazioni 3.21.23. Anche qui abbiamo visto che nella situazione più disperata possiamo ricordarci di quanto Dio è buono nei nostri confronti, non guardando tutte le cose che non vanno, ma guardando a Lui. E poi abbiamo visto come ultima cosa, io posso avere pace in Gesù in mezzo alle tribolazioni, perciò devo farmi coraggio. Giovanni 16.33. Abbiamo detto che quando crediamo a Gesù non significa che non avremo più problemi, anche se tante volte sembra quasi uno slogan. Credi in Gesù e tutti i problemi scompariranno. Non è vero. Seguire Gesù significa fare rinuncia, significa avere problemi, ma Gesù già ci avverte che ci saranno tribolazioni nel mondo, ma ci dice fatevi coraggio perché io ho già vinto il mondo. E adesso andiamo avanti con nuovi io posso spirituali, sempre dalla scrittura. Prima Giovanni capitolo 4, versetto 4, dice così Quindi qua troviamo un io posso molto importante nella battaglia spirituale. Io posso vincere il diavolo. Prima Giovanni 4.4. Allora ci troviamo continuamente a lottare contro il male. Tante volte questa battaglia, una battaglia spirituale, e ci troviamo tante volte immersi in tante tentazioni. Però la cosa bella è che io posso vincere il nemico. Nei prossimi studi tra l'altro tratteremo strategie vincenti per come vincere il nemico, come affrontare praticamente le tentazioni e naturalmente come vincere queste tentazioni. La nostra domanda è perché permettere a Satana di dominare la mia vita, visto che colui che in me è più grande di colui che nel mondo, io posso vincere il diavolo. Prima Giovanni 4.4. Passiamo a un altro io posso, Galati capitolo 5, versetto 1. Cristo ci ha liberati perché fossimo liberi. State dunque saldi e non vi lasciate porre di nuovo sotto il gioco della schiavitù. Io posso vivere in libertà. Galati capitolo 5, versetto 1. Allora, non so se avete visto nella locandina, alla fine io ho scritto che ogni versetto che noi lo guardiamo, lo guardiamo nel suo contesto. Perché? Perché un versetto tirato fuori dal suo contesto può dire qualsiasi cosa. Quindi ogni volta che leggiamo un versetto dobbiamo chiederci ma di che cosa sta parlando Paolo? Qui parla libertà, ma libertà di che cosa? E naturalmente il contesto ci dà la risposta a questa libertà. Allora, innanzitutto diciamo che la morte di Cristo ci ha liberati dal peccato, e questo l'abbiamo visto molto in profondità quando abbiamo fatto il tema io sono morta o morta al peccato, però la morte di Cristo ci ha liberato anche da una lunga serie di regole, di leggi e di religiosità, cioè di religioni. Quindi Cristo ci ha liberato perché fossimo liberi. Qual è il contesto di questo brano? Dove prende Paolo praticamente questa conclusione? Di che cosa parla? E praticamente tutta la lettera ai Galati parla proprio di questo tema che andiamo a leggere. Galati capitolo 1, versetto 13 a 14 dice così. Infatti voi avete udito quale sia stata la mia condotta nel passato? E Paolo che sta parlando. Quando ero nel giudaismo, come perseguitavo oltranza la chiesa di Dio e la devastavo. E mi distinguevo nel giudaismo più di molti miei coetanei, tra i miei connazionali, perché ero estremamente zelante nelle tradizioni dei miei padri. Quindi qua vediamo che Paolo sta dicendo una cosa molto importante. Sta dicendo quando io ero nel giudaismo, quando io seguivo l'ebraismo, io seguendo il giudaismo perseguitavo ad oltranza la chiesa di Dio e addirittura seguendo il giudaismo la devastavo. Perché? Perché il messaggio del Vangelo va contro quello che il giudaismo ha insegnato fino a quel momento. E lui dice io ero estremamente zelante nella tradizione dei miei padri. Quindi lui sta dicendo una cosa molto molto forte. Sta dicendo prima quando ero nel giudaismo io perseguitavo la chiesa di Dio. Ero contro Gesù. Sappiamo anche la storia di Paolo che stava andando per distruggere la chiesa in Damasco e lì incontro Gesù che lo ferma. E lì tutta la sua vita cambia completamente. E poi Paolo sta scrivendo questa lettera. Andiamo avanti. Vediamo il versetto 4 del capitolo 2. Dice così. Anzi, proprio a causa di intrusi, falsi fratelli, infiltratosi di nascosto tra di noi per spiare la libertà che abbiamo in Cristo Gesù con l'intenzione di renderci schiavi. Quindi qui abbiamo detto io posso vivere in libertà. E qui per spiare la libertà che noi abbiamo in Cristo. Libertà da che cosa? Stiamo vedendo libertà dalla legge, libertà da la religione, libertà da tutto questo. E la loro intenzione, qual era di queste persone? Era di renderci di nuovo schiavi. Ma rendere schiavi come? In che modo? Proprio ritornando al giudeesimo da cui era partito l'apostolo Paolo quando perseguitava oltranso la chiesa. Andiamo avanti. Altro versetto. Galati 1. Versetti... aspettate, eccola qua. Galati 2. Versetto 11 e 14. Ma quando Cefa, che sarebbe Pietro, venne ad Antiochia, gli resistè in faccia perché era da condannare. Versetto 14. Ma quando vedi che non camminava rettamente secondo la verità del Vangelo, dissi a Cefa, in presenza di tutti, se tu che sei giudeo vivi alla maniera dei stranieri e non dei giudei, come mai costringi gli stranieri a vivere come i giudei? Allora, qui a un certo punto c'è una disputa. C'è l'apostolo Paolo che deve riprendere Pietro. Additura c'è scritto gli resistè in faccia perché era da condannare. Che cosa era successo? Era successo che Pietro non camminava più rettamente secondo la verità del Vangelo. In che modo? Lui si era separato, non mangiava più coi stranieri, perché? Perché nel giudeesimo questa cosa non andava bene. E allora l'apostolo Paolo si arrabbia tantissimo con Pietro e dice ma come mai costringi straniere a vivere come i giudei? Cioè perché stai portando questi fratelli in Cristo a vivere nel giudeesimo? Cioè qualcosa di vecchio che non è più. Ricordati Pietro, adesso sto paraprasando, io posso vivere in libertà. Noi siamo liberi dalle leggi, dalle regole, dal giudeesimo. Quindi non tornare indietro e poi va avanti. E qui a un certo punto Paolo si arrabbia perché a un certo punto questi galati stavano seguendo degli insegnanti che dicevano no dobbiamo tornare al giudeesimo, dobbiamo quindi evitare i contatti con ebrei, dobbiamo seguire le leggi, dobbiamo seguire le feste, i giorni, dobbiamo seguire le circoncisioni e qui Paolo si arrabbia. Non so se avete mai notato questo versetto, Galat 5,12. Si facciano pure evirare quelli che vi turbano. Qui l'Apostolo Paolo dice una cosa forte. Qui Paolo si arrabbia un pochino e dice se volete seguire il giudeesimo allora dovete anche circoncidere, anzi già che siete tagliate tutto completamente. Parole forti parlando della circoncisione. Quindi riusciamo a renderci conto di come Paolo si era arrabbiato. Perché? Perché le persone che avevano conosciuto la libertà in Cristo stavano tornando indietro a seguire tradizioni giudaiche. E poi va avanti, Galati capitolo 4, versetti 9 e 11, dice così. Ma ora che avete conosciuto Dio o piuttosto che siete stati conosciuti da Dio, come mai vi rivolgete di nuovo ai deboli e poveri elementi di cui volete rendervi schiavi di nuovo. Voi osservate i giorni, mesi, stagioni e anni. Io temo di essermi affaticato in vano per voi. I Galati avevano iniziato a seguire, ad osservare, che cosa? Il calendario giudaico, coi suoi sabbati, le sue feste, le sue stagioni. E l'Apostolo Paolo dice ma siete proprio fuori. Cioè, ora che avete conosciuto Dio, ora tornate indietro, vi rivolgete, diciamo, ai poveri elementi per ritornare di nuovo schiavi di questa cosa. E poi Paolo dà la sua propria perplessità e dice io temo di essermi affaticato per voi, in vano. Galati 5.1 dice così. Cristo ci ha liberati perché fossimo liberi. Quindi a questo punto arriva il nostro versetto. Io posso vivere in libertà. Quindi abbiamo seguito un po' naturalmente velocemente tutto il contesto di questo versetto e abbiamo visto come persone che avevano conosciuto Cristo. Ora stavano tornando indietro a seguire di nuovo il Guitaesimo, con tutti i suoi sabbati, le feste, le stagioni. E invece Paolo dice no, noi siamo liberi da queste cose. Addirittura se ha rabbia, a un certo punto fa quell'espressione, allora eviratevi, allora io sono resistito a Pietro. Sapete, anche tutta la lettera agli ebrei parla di questo argomento, di come degli ebrei che hanno ascoltato il messaggio della croce di Gesù e poi stavano ritornando al Guitaesimo, quei suoi sabbati, le loro feste, le loro stagioni, i loro sacrifici. E l'autore agli ebrei, in tutta la sua lettera, spiega la superiorità di Gesù a tutte queste cose e addirittura provere e richiama con fervore questi ebrei a non tornare alle ombre del passato giudeesimo, ma di guardare solo ed esclusivamente Gesù, colui che crea e rende perfetta la fede. Quindi qui vediamo io posso vivere in libertà. Qual è la nostra domanda? Perché vivere in schiavitù? Tornare indietro alla legge, alle tradizioni giudaiche, al vecchio gioco, quando so che la libertà si trova là dove c'è lo Spirito del Signore. Quindi io posso vivere in libertà. Galati 5.1 Prossimo versetto, Romani in capitolo 6, versetti 14, versetto 22, dice così «Infatti il peccato non avrà più potere su di voi, perché non siete sotto la legge ma sotto la grazia. Ma ora, liberati dal peccato e fatti i servi di Dio, avete per frutto la vostra santificazione e perfine la vita eterna. Un altro io posso? Io posso, invece di peccare, santificarmi». Romani 6, 14.22. Naturalmente non andiamo in profondità su questi versetti perché li abbiamo già guardati, diciamo, nel suo contesto, quando abbiamo parlato proprio di che io sono morto o morta al peccato. Quindi diciamo semplicemente questo. Perché? Preservare a peccare, oppure cadere sempre nello stesso peccato, oppure dire io sono fatto così, questo è il mio carattere, oppure io non riesco a vincere quel peccato, quando invece la Bibbia afferma che in Cristo è libero, chi è in Cristo è libero dal potere del peccato e può non pecare. Quindi io posso, invece di peccare, santificarmi. Romani 6, 14.22. Altro versetto, questo è molto interessante, guarderemo proprio il contesto. Allora, seconda Corinzi, capitolo 2, versetto 14. «Ma grazie si hanno rese a Dio che sempre ci fa trionfare in Cristo e che per mezzo nostro spande dappertutto il profumo della sua conoscenza. Io posso sempre trionfare in Cristo emanando il suo profumo». Seconda Corinzi, 2, 14. Allora, è sempre bello studiare la Bibbia nel suo contesto per poter capire appieno ciò che Dio ci vuole dire. Infatti è interessante chiederci, perché Paolo parla proprio ai Corinzi di trionfo e di profumo? Come mai? Qual è la motivazione di questo? Dobbiamo sapere che i Corinzi sapevano molto bene cosa significa trionfo, perché loro avevano sperimentato esattamente il contrario. Infatti loro furono stati conquistati. Infatti il contesto della lettera, o meglio, di Corinto è un contesto un po' particolare. Allora, Corinto è stata conquistata e distrutta da Roma nel 147 a.C. dal consolere romano Lucio Mumio. Ed è interessante notare questo. Olivio, uno storico, narra che Lucio Mumio era un generale molto, ma molto mite. Allora diciamo, ma com'è? Era molto mite e ha distrutto Corinto. Perché l'ha fatto? Corinto. E la cosa è molto interessante. Lucio Mumio, che era un generale molto mite, dovette distruggere Corinto perché Corinto pensava di poter difendersi e battersi e vincere contro la potenza di Roma. Quindi l'orgoglio dei Corinti ha portato questo console che era mite a conquistarli, a dimostrare voi non potete distruggere o combattere contro il potere di Roma. Il senato, quando permetteva praticamente una marcia di trionfo solo in caso di una vittoria schiacciante e soltanto se la provincia fosse stata messa nell'impero romano. Quindi qui sta dicendo che il senato di Roma permetteva una marcia di trionfo solo quando c'era una vittoria schiacciante, grandiosa e che questa provincia era stata messa, diciamo, nell'impero romano. Allora, il trionfo di cui ci parla questo versetto non è la vittoria, ma è la marcia trionfale. Quindi cosa stiamo dicendo? Allora, il trionfo non è la vittoria, ma è la marcia trionfale ed è qualcosa di un po' di diverso. Allora, sulle marce trionfali di allora, di Roma, si possono dire alcune cose interessanti. Allora, noi possiamo capire alcune cose sulle marce trionfali, per esempio dagli archi di trionfo, che rappresentano praticamente graficamente quelle marce. Ci sono state più o meno 500 marce trionfali e non si trattava di una piccola manifestazione. Una marcia trionfare era qualcosa di grandioso e di bellissimo. Allora, guardiamo alcune cose su queste marce per capire bene di che cosa Paolo sta dicendo in questo versetto. Allora, io posso sempre trionfare in Cristo. Allora, come erano queste marce? Allora, innanzitutto c'erano dei carri. C'erano delle volte centinaia e a volte addirittura migliaia di carri che attraversavano tutta Roma. L'ordine della marcia era vario, ma la cosa sicura era una. C'era il generale vittorioso. Era acclamato. Entrava su un meraviglioso carro bianco, a volte era d'oro e a volte da volo. Con lui a volte c'erano anche i suoi figli e questo carro era trainato da quattro bellissimi cavalli bianchi, come vediamo un po' nell'immagine. Poi che cosa c'erano? C'erano dei soldati che avevano combattuto col generale vincente e che cantavano, che cosa? Dei canti di vittoria. Poi c'era naturalmente il senatore che proclamava il nome del generale vittorioso. Poi c'erano addirittura i trombettieri che suonavano e la marcia si conculleva dove? Sulla via sacra, che era la via dove c'erano tutti i templi romani e che erano aperti e bruciavano incensi profumatissimi. E poi naturalmente la marcia finiva al tempio di Giove, dove veniva sacrificato un bianco che li aveva seguiti durante tutto il tragitto. Questo è un po' come era questa marcia trionfale. Ed è interessante perché c'era questo generale vittorioso, c'era tutta questa festa proprio perché questo generale ha vinto. E qua sta parlando che noi, io posso sempre trionfare in Cristo, cioè io posso far parte di questa marcia trionfale, di essere lì in mezzo perché Cristo ha vinto per me. E durante tutta la marcia c'era naturalmente chi? Dei profumieri che bruciavano profumi costosissimi per spandere ovunque l'amor, l'aroma della vittoria. Allora è interessante anche perché Paolo parla proprio a Corinto di marcia di trionfo, l'abbiamo capito, ma anche parla di profumo. Perché? Perché Corinto era famoso per i suoi profumi. Sopra fu tutto per il profumo di Iris. Quindi Paolo parlava a persone che potevano ben capire qual era la preziosità naturalmente del profumo. Naturalmente nella marcia c'erano anche prigionieri di guerra. Solitamente c'era il re della città nemico, con tutta la sua famiglia e i notabili a città, anche loro facevano la marcia trionfale, ma la facevano da condannati, perché quella sera stessa sarebbero stati giustiziati. Perché? Perché non si erano arresi a Roma. Roma avrebbe dato addirittura la possibilità di vivere, solo però se si sarebbero arresi. Quindi ora con questa consapevolezza di cos'è questa marcia trionfale possiamo rileggere il passo insieme a magari anche qualche versetto in più per capire di più di che cosa sta dicendo questo versetto. Allora iniziamo dal versetto 14 e arriviamo fino al 17. Ma grazie si hanno resi a Dio che sempre ci fa trionfare in Cristo e che per mezzo nostro spande dappertutto il profumo della sua conoscenza. Noi infatti siamo davanti a Dio il profumo di Cristo, fra quelli che sono sulla via della salvezza e fra quelli che sono sulla via della perdizione. Per questi un odore di morte che conduce a morte, per quelli un odore di vita che conduce a vita. E chi è sufficiente a queste cose? Noi non siamo infatti come quei molti che falsificano la parola di Dio, ma parliamo mossi da sincerità da parte Dio, in presenza di Dio, in Cristo. Quindi stiamo vedendo questo versetto ampliato un po' e vediamo anche una cosa interessante per la nostra identità in Cristo. Io sono il profumo di Cristo. Perché io sono il profumo di Cristo? perché in Cristo io sono lì, in questa marcia trionfale, sono diciamo il profumiere o addirittura profumo, che è odore di morte e odore di vita nello stesso momento. Come può essere? Odore di morte per le persone che non conoscono Cristo, ma odore di vita per le persone che conoscono Cristo. Quindi Cristo ha vinto e io sono nella marcia trionfale, non come schiavo, perché non ho voluto sottomettermi a Gesù. Quindi una persona che non si vuole sottomettere a Gesù, alla fine si sottometterà a Gesù, alla fine dei tempi, ma io sono lì in questa marcia trionfale come un profumiere. E quindi io posso sempre trionfare in Cristo, partecipare diciamo a questa grande festa, emanando proprio il suo profumo, Seconda Corinzi 2,14. E leggiamo anche un altro passo, sempre in Seconda Corinzi. Dice così, capitolo 4, versetti 7 a 9. Ma noi abbiamo questo tesoro in vasi di terra, affinché questa grande potenza sia attribuita a Dio e non a noi. Noi siamo tribolati in ogni maniera, ma non ridotti all'estremo, perplessi, ma non disperati, perseguitati, ma non abbandonati, atterrati, ma non uccisi. Possiamo essere scossi dalla vita? Assolutamente sì. Possiamo vivere delle tragedie nella nostra vita? La risposta è ancora sì. Possiamo vivere delle grandi difficoltà? La risposta è ancora sì. Possiamo essere tribolati in ogni maniera, ma non saremo ridotti all'estremo. Possiamo essere perplessi, ma non saremo disperati. Possiamo essere perseguitati, ma non saremo abbandonati, perché Dio sarà sempre con noi. Possiamo essere atterrati, cadere, essere messi a K.O. dalla vita, ma non saremo uccisi. Perché? Perché Cristo ha vinto e noi siamo in quella marcia tionfale. Non dimentichiamoci mai di questo. Quando dimentichiamo di guardare al Gesù vittorioso e guardiamo solo intorno a noi, sapete cosa succede? Il mondo ci cade addosso. Ma quando noi guardiamo Cristo, sappiamo da che parte stiamo. Sappiamo che facciamo parte di questa marcia tionfale come vincitori. Quindi Cristo ha vinto e mi può dare la forza per affrontare ogni difficoltà. Quindi la nostra domanda è perché accettare la sconfitta quando la Bibbia afferma che Dio mi fa trionfare sempre in Cristo e per mezzo mio spande dappertutto il profumo della sua conoscenza. Io posso sempre trionfare in Cristo emanando il suo profumo. Altro versetto, Filippesi capitolo 4, versetto 11, dice così l'Apostolo Paolo. Non lo dico perché mi trovi nel bisogno, poiché io ho imparato ad accontentarmi dello stato in cui mi trovo. Un altro io posso, la Filippesi 4, 11, io posso essere soddisfatto o soddisfatta nello stato in cui mi trovo. Allora è importante alcune parole e sottolineate queste parole. Ho imparato. Paolo aveva imparato ad essere contento sia nell'abbondanza che nella penuria. Il suo segreto naturalmente era la potenza di Gesù Cristo nella sua vita. Sei scontento? Sei scontenta? Perché non hai ciò che vuoi? Allora dobbiamo imparare a confidare passo dopo passo in Cristo e nelle sue promesse. Più avanti in questi studi proprio approfondiremo ancora una volta in modo pratico come vivere pienamente la nostra soddisfazione in Cristo. Oggi vogliamo solo accennare qualcosa. Innanzitutto la contentenza non dipende dalla quantità di ciò che abbiamo ma dal nostro atteggiamento verso ciò che abbiamo. Quindi tante volte noi guardiamo, ah ci manca quello, 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 ma non guardiamo quello che noi abbiamo. A volte diciamo mi manca questo, ma non ci rendiamo conto di quante cose abbiamo in Cristo. La contentezza non è qualcosa che viene spontaneo. Paolo ha imparato ad essere accontento in ogni stato, quindi anche noi possiamo imparare questo. E naturalmente dobbiamo imparare. Quindi deve esserci anche una nostra applicazione per imparare come Paolo ad accontentarmi dello stato in cui mi trovo. È una bella sfida che ci troviamo davanti. Domanda perché essere insoddisfatto o insoddisfatta quando come l'Apostolo Paolo posso imparare ad accontentarmi sempre dello stato in cui mi trovo. Io posso essere soddisfatto o soddisfatta nello stato in cui mi trovo. Filippesi 4.11. Andando avanti proprio nello stesso contesto di Filippesi 4.13, versetto famosissimo, io posso ogni cosa in colui che mi fortifica. Quindi il mio io posso spirituale è io posso far fronte ad ogni situazione perché Cristo è con me e in me. Filippesi 4.13. Allora, come abbiamo detto spesso, l'importanza del contesto. Il contesto è importante per capire bene un versetto. Questo è uno di quei versetti che molti citano, ma troppe volte viene citato a sfroposito, proprio senza tenere in considerazione quale è il contesto. E per capire questo versetto dobbiamo innanzitutto capire che cosa non sta dicendo. Qua Paolo dice io posso ogni cosa. Egli però non sta intendendo ogni cosa in senso assoluto. Egli non intende dire che lui può creare il mondo, lui può volare, lui può alzare un camion o fare qualsiasi altra cosa che il Signore non ha permesso all'uomo di fare. Non sta dicendo questo. Tante volte addirittura si vede, diciamo, i versetti con la persona che solleva un macigno, oppure una persona che addirittura vola, ma non sta dicendo questo. Non sta dicendo che io posso qualsiasi cosa in senso assoluto. Paolo sta dicendo qualcosa in un contesto. Paolo sta dicendo che egli può essere contento in qualsiasi stato che lui si trova. Ricordiamoci che Filippesi 13 viene dopo un versetto dall'undici che abbiamo appena visto, in cui lui diceva io ho imparato a essere contento in ogni situazione. E qua proprio dice io posso ogni cosa in colui che mi fortifica. Quindi il suo io posso ogni cosa vuol dire che lui poteva stare bene sia nell'abbondanza come nell'indigenza. Egli poteva essere contento nella fame come nell'essere sazio. Come poteva fare questo? Paolo non era un credente diverso da noi, con maggiori capacità spirituali. La capacità di Paolo non era in se stesso. Egli infatti lo spiega proprio in questo versetto. Io posso ogni cosa, e continua, in colui che mi fortifica. Ciò che permetteva a Paolo di essere contento in qualsiasi situazione o di affrontare qualsiasi situazione che si trova davanti era proprio il fatto che Cristo lo fortificava. La potenza di Cristo non è limitata solo ad alcuni credenti. Tante volte, purtroppo, tante persone ti telefonano e dicono prega per me, come che magari la mia preghiera l'ascolta Dio, la tua no. Certamente è buono chiedere preghiera, assolutamente sì. Però ricordiamo che Dio non è che ascolta più uno o più l'altro. Quindi dobbiamo capire che la potenza di Cristo non è limitata solo ad alcuni credenti. Cristo fortifica ogni vero credente. Io posso ogni cosa in colui che mi fortifica. Può valere anche per me, però io devo imparare, come abbiamo visto prima, io devo imparare ad accontentarmi in ogni stato, in qualsiasi situazione. In qualsiasi situazione che ci veniamo a trovare, in qualsiasi stato Dio permette alla nostra vita, possiamo essere contenti perché Cristo ci fortificherà il punto di poter sopportare la prova e anche trovare contentenza. Sei scontento per ciò che non hai? E questa è una bella domanda, proprio parlando della soddisfazione o dell'insoddisfazione. Chiaramente tutto questo non è automatico. Abbiamo detto che Paolo aveva imparato ad essere contento. Il suo segreto naturalmente era la potenza di Cristo nella sua vita e anche noi, se non siamo gioiosi, se non siamo contenti, se non siamo vittoriosi, è perché non stiamo utilizzando tutti i mezzi che Dio ci ha dato. Quindi dobbiamo imparare a confidare nelle promesse di Dio e anche nella potenza del Cristo affinché ci aiutino ad essere sempre più forti. Quindi abbiamo detto che questo non è automatico, è qualcosa che si impara. Posso dire sì, io posso far fronte ad ogni situazione perché Cristo è con me e me. Certamente lo posso dire, però devo anche imparare ad accontentarmi nella situazione in cui mi trovo. La domanda per noi è perché scappare o non affrontare una determinata situazione, visto che la Bibbia afferma che io posso ogni cosa in Cristo che mi fortifica. Altro versetto, Filippesi 4.19. Abbiamo visto gli ultimi tre versetti, sono collegati l'uno all'altro, Filippesi 4.11, 4.13 e 4.19 e dice così. Il mio Dio provvederà splendidamente a ogni vostro bisogno secondo le sue ricchezze in Cristo Gesù. Un altro io posso. Io posso sapere che Dio provvederà splendidamente per me. Filippesi 4.19. Allora, anche qui l'importanza dei contesti. Notiamo che questa promessa segue la descrizione di che cosa. Leggendo tutto il contesto di Filippesi 4, ma anche di tutte le lettere filippesi, scopriamo che i filippesi cosa avevano fatto. avevano provveduto per Paolo, il sostegno per Paolo, nei momenti più difficili della sua vita, quando si trovava in carcere. E quindi lo avevano aiutato, lo avevano aiutato con le loro risorse, i loro soldi e addirittura mandando anche una persona affinché si prendesse cura di Paolo quando era in prigione. Allora, in altre parole, noi dobbiamo capire questo, il contesto. Poiché esse avevano dato parte delle loro risorse materiali a Dio, in questo caso a Dio, dandole a Paolo, al punto da mettere in pericola a volte anche la loro stessa vita, Dio qui fa una promessa. Dio avrebbe provveduto a ogni loro bisogno. Quindi il mio Dio provvederà splendidamente a ogni vostro bisogno secondo le sue ricchezze in Cristo Gesù si sta riferendo a una promessa che Dio ha fatto. Quando noi provvediamo fedelmente per il servizio dei santi, dei pastori o persone che Dio ha chiamato a servire Lui, che cosa succede? Allora Dio si prenderà cura splendidamente di ogni tuo bisogno. In questo versetto c'è una splendida promessa. Abbiamo detto tante volte questa frase. Quando troviamo nella Bibbia un comandamento, dobbiamo obbedire. Quando troviamo un fatto, dobbiamo semplicemente crederci. E quando troviamo una promessa, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo farla nostra. Come fare nostra questa preghiera? È vero, naturalmente in senso generale, che Dio provvederà ai bisogni del suo popolo, però questa è una promessa specifica per quanti donano fedelmente e devotamente. Quindi se tu doni fedelmente e devotamente, puoi dire io posso sapere che Dio provvederà splendidamente per me. Filippesi 4,19 Non esiste reale, e ho evidenziato la parola, reale bisogno per il quale il Signore non sia in grado di provvedere. Quindi a quanti donano fedelmente e devotamente, non mancherà nulla. Possiamo essere sicuri che Dio provvederà sempre ai nostri reali bisogni, ma dobbiamo ricordarci anche che non sempre lo farà come noi immaginiamo, ma lo farà nel modo giusto. Parlo di bisogni reali, perché spesso noi chiediamo per dei bisogni reali che in realtà non sono reali. Noi pensiamo, ah, io ho bisogno assolutamente di questa cosa. E se Dio non provvede vuol dire che non hai bisogno proprio di quella cosa. Tu pensi di averne bisogno, ma Dio che è più saggio di te e di me, naturalmente che cosa fa? Ci dà le cose nel modo giusto. Possiamo quindi essere sicuri che Dio provvederà sempre ai nostri bisogni, ma dobbiamo ricordare che non lo farà sempre come noi lo immaginiamo. La nostra domanda è, perché mancare di qualcosa? Quando so che Dio ha detto che provvederà splendidamente a ogni mio bisogno, secondo le sue ricchezze in Cristo Gesù. Io posso sapere che Dio provvederà splendidamente per me. Filippesi 4,19 Anche oggi abbiamo fatto una lunga carrellata di tanti opposti del nostro successo spirituale. Naturalmente ognuno è importante, ognuno andrebbe fatto addirittura uno studio specifico su ognuno di questi. È qualcosa che naturalmente ognuno di noi può fare singolarmente. Allora, riguardiamo un po' questi io posso di oggi. Io posso vincere il diavolo. Prima Giovanni 4,4 Quindi io posso vincere ogni tentazione. Perché? Perché Dio mi dà la forza. Nessuna tentazione è più grande di me. E nei prossimi studi vedremo proprio come affrontare le tentazioni in un modo pratico, per vincere le tentazioni di ogni giorno. Il secondo io posso. Io posso vivere in libertà. Galattia 5,1 Quindi abbiamo visto che in Cristo siamo liberi dalle leggi, dalle regole, dalla religiosità e non dobbiamo tornare indietro e farci di nuovo schiavi come quelle persone che avevano conosciuto Cristo si facevano schiavi ritornando al giudeesimo, seguendo i giorni e tutte queste cose. Io posso, invece di peccare, santificarmi. Romani 6,14,22 Quindi io posso, invece di peccare, santificarmi, crescere, essere sempre più simile in Cristo a Gesù perché io sono stato liberato dal peccato o morto dal peccato, come abbiamo visto l'altra volta. Io posso sempre trionfare in Cristo emanando il suo profumo. Secondo a Corinzi 2,14 Io faccio parte di quel trionfo, di quella marcia trionfale, come era nell'antichità di Roma dove il mio comandante Gesù Cristo ha vinto e io sono lì a esultare. Io sono lì a emanare questo profumo profumo che noi siamo per le persone intorno a noi per i non credenti di morte, di condanna perché non hanno ancora creduto in Gesù e per le altre persone che hanno creduto in Gesù un profumo di vita Io posso sempre trionfare in Cristo Poi abbiamo visto da Filippesi gli ultimi tre Io posso essere soddisfatto o soddisfatta nello stato in cui mi trovo Filippesi 4,11 Quindi io posso essere soddisfatto Paolo dice io ho imparato e anche noi possiamo imparare come Paolo e essere soddisfatti non è qualcosa che viene in automatico è qualcosa che impariamo La soddisfazione è un argomento che tratteremo anche nei prossimi studi, approfondiremo E poi Filippesi 4,13 Io posso far fronte ad ogni situazione perché Cristo è con me e me Qualsiasi situazione che mi trovo di fronte Io posso vincerla perché Cristo mi dà la forza per vincerla per sopportarla, per andare avanti Quindi non scappiamo davanti in situazioni ma affrontiamole E poi l'ultimo Io posso per adesso Io posso sapere che Dio provvederà splendidamente per me Filippesi 4,19 Io posso sapere che Dio provvederà splendidamente per me Quindi che cosa sta dicendo qua? Abbiamo visto anche questo quando noi ci impediamo, ci prodighiamo per l'aiuto, per il sostegno delle persone che Dio ha chiamato alla predicazione o a qualsiasi altra cosa Noi possiamo essere sicuri che Dio provvederà splendidamente per ogni nostro bisogno Allora abbiamo visto in questo studio, nel studio precedente Io a posto del successo spirituale Come sempre, naturalmente non sono solo questi Ce ne sono tanti altri Però questi qua sono interessanti da vedere Poi personalmente ognuno di voi con le vostre Bibbie Potete trovare tanti altri posti spirituali Come tanti chi sono io in Cristo Però questi ci possono già dire Quante cose abbiamo in Cristo E naturalmente Dio è un Dio che parla E Dio oggi ci ha voluto dire queste cose Perché noi abbiamo bisogno di queste cose Che veramente ognuno di noi possa riflettere su quello che Dio ci ha detto oggi Amen Grazie